Uffici mobili curano lo svolgimento delle operazioni bancarie presso le truppe operanti al fronte greco. La Banca Nazionale del Lavoro che ha preso quest'utile iniziativa ha certo tenuto presente il tradizionale spirito di risparmio dell'italiano. Questi uffici mobili, uniti di automezzi, si spostano con le truppe operanti per consentire anche ai soldati dei reparti più avanzati di rimettere i risparmi alle loro famiglie. L'originale e propria organizzazione è stata accolta con vivo compiacimento da parte dei combattenti.